Se lo batte vabbè, poteva essere uno sfidato come gli altri Se lo batte 50 euro? Boh Voglio provare a vedere se lo battete Reckless è gestibile in 1v1, ah sì? Ok Vabbè sono stato uno dei pro player più bravi e più famosi di LOL Tu sei mid giusto King? Sì sì La Tessana non mi attacca perché Sono dei geni, sono dei geni L'asa Non me ne sono accorto perché stavo parlando con voi Sono dei geni Va bene grazie ragazzi Non l'avevo mica visto io Non l'avevo mica visto Va bene Va bene Allora che impachi Mantieni il sangue freddo mi raccomando Adesso ti spiego cosa sta succedendo Ok Abbiamo due ragazzi Che vogliono perdere Mi hanno rubato entrambi i buff Ma c'è morto sì 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 però mi hanno rubato il buff Ma ovviamente noi sai cosa faremo Vinceremo comunque lo sai Perché io Non ho paura Comunque Nivea è senza passiva Peccato che sono con Evelynn E non con un viego o un master Però va bene Malati terminali ragazzi Malati terminali Sì 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 Va bene va bene Questa La traiardo di brutto Questa col cazzo Io mi chiedo dove si inventano certe cose Ma vogliono perdere Vogliono fare delle cose brutte Ma va bene Chissà dove le inventeranno mai Ok Giro di nuota Riscattato Che lo scamo Sia con te Ok Ho aspettato a fare il gromp Perché se lei arrivava lì Mi lo poteva prendere con lo smart Così invece non lo fa Ok Va bene Grazie GXAnima Bene bene Mi raccomando ragazzi Ricordatevi della ciazzola emote Per un minuto Ok Proprio farm di Rengar Adesso non devo più smettare i campi Fino che non Non sparano i miei I miei buff Così avrò I due smite Per i due buff Sempre se non me li rifanno entrambi contemporaneamente Allora quello Dopo è un problema Un minuto al blu Facciamo golem e blu Facciamo golem e muore Vabbè Sto stentando Ma sono ranked sul meno Sei sempre lo elo Sempre lo elo Ivan E infatti ovviamente Mi hanno Mi hanno un po' intato Però nel senso Va bene Iniziamo comunque Anzi Tristana è 3-0 3-1 Vediamo cosa vuole fare Con questo 3-1 Cioè forse vuole fare solo la simpatica Se vuole fare solo la simpatica Così all'inizio del game Turbando il campo al jungler Allora non capisco il suo scopo Nel senso Se il tuo scopo Allora non è perdere Perché fai questo Nel senso Questo è proprio Solo dare fastidio alla gente Un conto è Vabbè lo faccio perché voglio perdere Va bene Va bene Va bene Vediamo Mi ha rubato i due buff La di carry e il top lane La di carry con lo smite Il top lane con la passiva Carissimo 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 Il tesano vuole andare a fare quello Ma io lo smite 13 secondi Punizione Quanto fa la sua? Come la mia 480 Ok Proviamoci Grazie Tesori miei Con chi pensate di avere a che fare? Vedete che sei uno v7? No C'è anche Mi compagno a zix Enjoy lose You are not even good At smiting Perché fanno così? Che problemi ha la gente? Perché vogliono fare simpatici E adesso non ho minacciato Che perdiamo E se perdiamo Che me ne frega me Meglio Dopo sono contro gente più scarsa E queste cose si chiedono tanto forti Capito? Siano tanto forti Che vogliono fare I scemi E carriere la partita Così dopo Eh Hai visto come sono forte Not my probe If you Are noob Oh porca Perché mi dice che è facile Smiteare Con le spell Eh sì Mi dispiace cara Molto facile In caso la perdiamo Che impachi Dopo ne facciamo un'altra O un altro gioco Non lo so Perché ovviamente non è giusto Oh beh Ma penso la vinceremo Easy Eh vediamo Io sono avanti Ho la taglia Ragazzi ho la taglia dei soldi Sulla mia testa Nonostante sono partito Senza i due primi buff E sto solo farmando Perché se no Allora mi rompono le robe Io ho la taglia Sulla testa dei soldi Da quanto ho farmato E ho perso I primi due buff Sì ma così come ti puoi beccare Uno del genere Ivan tu ti puoi beccare Uno smartphone team Che ti vince il game Quindi alla fine è bilanciato Magari perdi un game Del genere Ma poi ne vinci un altro Perché è uno smartphone E quindi è bilanciato Oh no Buono buono, questa partita la vinciamo Forse c'è Lucian qua, c'è Lucian qua, vieni vieni, vai su Lucian Muoio forse? Va bene Ward comunque Heavy pro 89 Vieni un stato da Tyler1, poi Reckless si iscrive al torneo E poi cosa puoi di più, Faker, che viene in live 13? Mamma mia Let's win together, guys Non potete fermarmi Stronzi Io punto alla vittoria in questo caso e quindi vinco Puttane Guarda te sta gente Vogliono fare simpaticini con la persona sbagliata Ma il pack dove l'hai lasciato Ben, è quasi un anno che non gioco pack È tipo da giugno Sono passati giusto 8 mesi Eh lo so Cosa da list Tutti me li ha fatti È full letality Vabbè Fa un po' troppo danno, non me l'aspettavo Vabbè, va bene Però preferisco prendermi il blue che il red, ragazzi Quindi non ho smitato Guardate, guardate, guardate Guardate Che gente Dimidio la pazienza Non ti preoccupare C'è un motivo per cui sono così paziente Ok Sono molto calmo Purtroppo qua Dove è un po' di Magic Resist E può togliersi il cc Non ti muovere È solamente una storia finita male La sofferenza è il senso della vita Della nuova Della nuova Della nessuno, ragazzi Ok 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 Madonna ragazzi che ansia sta partita Che ansia cazzo Oh porca Vabbè comunque Sto arrivando da te Ce la fai? Quasi Pochissima vita morgano Sta recollando lì però lì c'è anche Ah no non sta recollando ok Ok ma lì non la posso uccidere Purtroppo Anivia c'è la passiva e quindi non la uccido Forse Brava sotto torre Così ho fatto doppio Bravi ragazzi Urca che roba La concentrazione palpava Eh lo so hai visto gatto A dover vincere in una situazione di svantaggio In cui siamo 3 contro 7 E via Oh You asked me for tryhard In champ select Cioè loro mi hanno chiesto di tryhardare capito E poi si lamentano che io tryhard Ragazzi È proprio di questa gente Di questi debolucci che sono Cioè loro lo fanno davvero soltanto col gusto di dare fastidio Cioè loro vogliono vincere Ma dando fastidio Cioè questa cosa Questa cosa è proprio no sense Un 15 voglio perdere Ma allora va bene No? Lui non vuole perdere Lui vuole vincere Ma vuole anche dare fastidio Incredibile La tua torre è stata distrutta Vabbè Energy tutto da te Se vincete Ti contatteranno per partecipare a un mega torneo con impalve Ma che Come vedi stiamo vincendo comunque Perché loro vogliono vincere Un ticket oltre che un report Cosa vai a dire? Niente Perché semplicemente Magari Lui sta giocando male Però Dato che scrive delle cose abbastanza particolari Tipo Ah sto morendo di cancro In quel caso lì In quel caso lì In quel caso lì Penso arrivo Fai un sorriso Fai un sorriso Fai un sorriso Fai un sorriso Se ti piacciono le ragazzine Sì Ho fatto tutti i sorrisi che vuoi allora Allora Ma se Vedi che comunque vogliono vincere Ma trollano Sì sì no ma infatti Se vogliono solo dare fastidio Però va bene Adesso io gli voglio dare fastidio a questa persona Lui vuole dare fastidio a me Io gli do fastidio a lui Care please Trist Don't feed No No Adesso Guardate guardate come è agitato Sì 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 Capi Come le troie Si può toccare Ma non si può guardare A casa signori miei Non la mia miglior partita ovviamente ma Direi che qui stiamo raggiungendo alti livelli Per quello che sta succedendo Vaffancula sei stronzi No crempi Lo smite Se ti succede una cosa del genere non devi mai smitare Il carretto È uno spreco Tu devi smitare quello che ti serve a te Cosa serve a te? I campi di giungla Ok? E non soltanto i campi di giungla I buff soprattutto Bene bannabile cosa ha scritto? Non ha scritto soltanto cancer Non so se è bannabile la parola cancer Nel dubbio la reportiamo per ciò che ha scritto all'inizio game Visto che ovviamente Era un po' trollina Sto morendo di cancro prendete i vostri main pick Mi dispiace King che ti sia capitato Sta partita proprio a te Vabbè Anzi c'è più gusto a fargli capire che sono Sono scarsi Che poi non sono scarsi ovviamente Però dato che Dato che loro non piace sentirsi dire che sono scarsi Allora glielo dico Così imparo Almeno Almeno ci godo un po' anch'io Sto che stanno parlando gli stronzi Ma per lo smite non è bannabile Perché potrebbe benissimo farlo un bronzo che non sa giocare E allora fa lo smite così Fidati Non bannano per se cose In bronzo c'è di peggio C'è gente che gioca male Cioè gioca così E pensa di giocare bene apposta Cioè È una normalità Purtroppo io ho anche un piccolo problema Il fatto che Rengar è uno dei miei counter Visto che si corre così tanto Ok Sion triple KS me Poverino E domani vado in caserma A fare Facciamo l'inibitor anche Adesso Anche io mi metto a trovare leona Vabbè Guardate guardate La sto cercando di far arrabbiare Ragazzi se non vi cago Ma voglio far arrabbiare So stronzo Così impara È il perico No caro Questo no Ok Loro fanno il drago Va bene Troppo Quasi l'ha rubato Tristano Tu dovresti train Il tuo smite Skill E Go tank If you know You fed so much Mamma mia Cattiveria Sì Cattiveria psicologica Va bene Ma mi è tornata la passiva così Vai vai leona Tutto tuo Che Che Ragazzi Mamma mia You fed Lucia ADC Diff Ecco bravo Viengale anche tu Fagli capire Cazzo Fale soffrire Guardate com'è arrabbiata Guardate com'è arrabbiata Guarda Allora mi fa la giung Guardate com'è incazzata Guardate com'è arrivata Non scrive più Guardata E' proprio Si sta agitando Si vede dentro Oh Questo voglio Così imparo Mamma mia ragazzi Mamma mia Guardate 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 com'è arrabbiata So mad Questa faccina qua Molto cattiva Questa faccina qua è molto cattiva Nessa Montove 3x Mi scrive Mamma mia ragazzi Ovviamente a me non frega un cazzo Quindi non gli rispondo Ok Ok Scusa quando vuoi fare incazzare un tipo Mi da questa stacchi Molto probabilmente si Report Evelyn for having autismo And 4 kills more than you Oh porca Non ti vuoi impegnare a fare un po' più decisioni Tristana Se l'ha di carry E 7 kill Io ne ho 11 Porca Ecco bravo Guardate Sola pingo un po' Ah Mamma mia ragazzi Bravola Intanto tu stai spaccando tutto Comunque bravo Anche questa Via via Adesso Dove scappiamo? Dove scappiamo? Dove scappiamo? Guarda che pingano il baron Sì sì Bad call Learn Vinciamo GGWP Avete visto? Li avevamo carriati Sti stronzi Adesso li mandiamo pure Alive Vero ragazzi? Avete visto? Questo è quello che si merita A nostra persona Adesso questo qua Sarà pure arrabbiato Molto bene Very good Remember To support My stream Ragazzi Vi autorizzo Insultarli Se arrivano in live Potete insultarli Quanto volete In chat Ehem Ok GGWP Talking With Tristana And Sion Not With You Enemy Team Ok Bene Ora Usciamo da qua Così non Non possono più scrivermi lì E se vogliono scrivermi Non farli in chat Eh cazzo Non le ho riportati Va bene Va bene GG Lucian Oh Well played Lucian Well done You did well Better than Our Tristana Happens It's ok It's ok You did very well Smurf Yeah Smurf With With Tristana And Sion That was They were stealing My buff All the time To Griff My My jungle What rank I'm not really Pro player I'm Just gold Ok Ti hanno augurato Il inserire parola Con la cibang Pesante Ci sarebbe stato Vabbè Abbiamo tutta la live Come prova Non ci vuole tanto Thank you Hank Tristan e Sion Say bad things Bad words To me And So I Decided To try Hard Really hard Because I know I'm really Better than Them I know And they Sucked Infatti Indeed Infatti Va bene Va bene Sapete perché sto dicendo queste cose ragazzi Ovviamente per farli un po' Un po' Agitare Yeah I know And I'm a goal Better than you Oh my god This is fucking Brainwashing Ok Va bene King Sides comunque ti ringrazio del game Grazie a te Mi dispiace per questa cosa strana Finirà sull'uncut Sarà un game molto particolare Vabbè Vabbè Ti ringrazio Ciao 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 Per me il 100% sono gli italiani di C2 No non penso in italiani Altrimenti vebbero già scritti in italiano E poi comunque sia Cioè Sul serio In senso Gente pro strana Non alteriamo il flame Ma che cosa ha scritto Scusa No no Io Codice io Gli ho detto che possono Possono insultarli Quanto vogliono Ok Cioè loro si mettono a dire queste cose A fare simpatici così Quindi cioè I'm sorry Cioè loro si mettono a dire queste cose